Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo, per fortuna o purtroppo, per fortuna, per fortuna lo sono. Oggi dedicata alla replica della procura, il procuratore aggiunto Pietro Argentino ha contestato alcune affermazioni fatte nelle udienze precedenti da alcuni difensori degli imputati nelle loro rispettive arringhe. In particolare, Argentino ha contestato alcune frasi pronunciate ieri dall'avvocato Nicola Marseglia, difensore di Sabrina Misseri, che aveva parlato di metodo barbaro in stile cubano usato dagli investigatori nel corso delle indagini. Speriamo di non causare un incidente diplomatico, ha commentato il procuratore aggiunto. A fine udienza, l'altro pubblico ministero, Mariano Buccoliero, depositerà una memoria di circa 600 pagine. Spostiamoci ora a Taranto per un altro importante processo, quello per la morte di Sara Scazzi. Ieri la ringa conclusiva del difensore di Sabrina Misseri, che ha chiesto l'assoluzione e per la sua assistita. Oggi udienza straordinaria dedicata alle repliche del procuratore aggiunto Argentino. L'altro PM Buccoliero ha depositato una memoria di 600 pagine, dove ha ricostruito le varie fasi dell'indagine. Ricordiamo che l'accusa ha chiesto l'ergastolo per Sabrina Misseri e sua madre Cosima e nove anni di carcere per Michele Misseri, lo zio di Sara, che continua ad autoaccusarsi dell'omicidio. Spostiamo a Taranto, dove ormai alle battute finali il processo per l'omicidio di Sara Scazzi. Oggi la replica dell'accusa. Il PM Buccoliero ha depositato una memoria di 600 pagine. Udienza straordinaria, non in calendario, per il processo sull'omicidio Scazzi, per consentire al procuratore aggiunto una breve replica durata circa due ore. Una replica tecnica che comunque non ha risparmiato critiche alla difesa delle due principali imputate, Cosima Serrano e sua figlia Sabrina Misseri. La tesi difensiva presenta diverse contraddizioni, ha detto Argentino, che si riscontrano nel movente, attribuendo l'omicidio a Michele Misseri, alle modalità del delitto, fino ai testimoni di parte. A uccidere è stata Sabrina, per una serie di motivi che vanno dalla gelosia all'orgoglio ferito, dall'invidia all'umiliazione subita, prima da Ivano Russo e poi in pubblico. E tutto è accaduto per causa di Sara Scazzi, che da sorella minore, quale era negli anni passati, era diventata una formidabile rivale in amore. Anche il PM Mariano Buccoliero ha replicato, ma solo per pochissimi minuti, e poi ha consegnato alla Corte d'Assise una memoria di 600 pagine, che consiste sostanzialmente nella trascrizione della sua requisitoria durata tre giorni. L'udienza è stata aggiornata come previsto a lunedì 15 aprile prossimo per le repliche del collegio difensivo. Molti legali depositeranno memorie scritte. Quindi, se non ci saranno richieste di dichiarazioni spontanee da parte degli imputati, il 16 aprile successivo la Corte d'Assise si ritirerà in Camera di Consiglio per scrivere il dispositivo di sentenza.